Chiara Rivetti, come vi dicevo, per chi non la conosce, non la conoscono quasi tutti, è la segretaria regionale della NAO e quindi la visione dei medici soprattutto. Grazie Chiara. Grazie, grazie Mariangela, grazie ad Attac Torino per questo invito e grazie a Professor Cavicchi per il suo illuminante intervento e per il libro che devo dire arricchisce e apporta molti punti di vista, devo dire, innovativi. Io sono un medico ospedaliero e faccio anche sindacato in un sindacato di categoria che rappresenta i medici ospedalieri, quindi magari il mio punto di vista è anche un po' viziato dal lavoro che faccio e dai colleghi che difendo. Io condivido assolutamente quanto scritto e detto dal professore sul fatto che manchi una riforma strutturale e che per ora soprattutto il PNRR si limiti a potenziare l'esistente senza avere un punto di vista che può essere innovativo o rivoluzionario. Come dice Naomi Klein, tutti quelli che sono contro il welfare state non si fanno mai sfuggire una buona crisi, questa è stata una crisi gravissima ed effettivamente abbiamo avuto l'evidenza di come lei non si sbagliasse, cioè purtroppo mentre si doveva approfittare per potenziare il welfare state ad oggi sembra veramente a rischio. Poi anche su questo mi auguro di sbagliarmi ma effettivamente come ha già citato il professore sia il privato che il privato accreditato che il welfare aziendale non sono stati ridimensionati ma sembrano potenziati. Il PNRR in particolare riserva per gli ospedali dei finanziamenti per la ristrutturazione e per la riconversione energetica ma non per il personale, non per la formazione del personale come se davvero dovessero rimanere degli ospedali vuoti e senza medici. Perché adesso il problema è questo, almeno io conosco meglio la realtà del Piemonte ma che devo dire si può trasportare in quasi tutte le altre regioni d'Italia, i medici ospedalieri si stanno licenziando quasi uno al giorno per andare a lavorare o nel privato o nel privato accreditato o per cercare di entrare nella medicina del territorio. Questo perché sono stati, sono stanchi perché sono stati fondamentalmente gli ospedali a gestire la pandemia e questo sforzo non è stato in qualche modo riconosciuto, ripagato. Le prospettive di carriera dei medici ospedalieri sono state negli ultimi dieci anni falcidiate, nel senso che noi abbiamo fatto il calco dei primariati, dei direttori di struttura complessa, si sono rodeotti di un terzo in Piemonte. Quindi diciamo che la possibilità di un giovane assunto poi di progredire anche nella professionalità, non è solo un'ambizione di carriera, è proprio magari di progredire nella propria professionalità, è mortificata. La burocrazia ci ammazza e poi l'altro aspetto è che la medicina sta diventando una medicina molto più femminile rispetto al passato e quindi anche le esigenze di genere non dovrebbero essere sottovalutate. Cioè il fare tre weekend su quattro al mese o tante notti purtroppo non concilia con una gestione della famiglia che in questo momento è ancora a carico delle donne. Quindi questo è uno dei motivi per cui abbiamo tanti medici che lasciano gli ospedali, quindi se il PNRR li ristruttura francamente non ho ben idea poi di cosa ci sarà dentro. La stessa cosa è per le case di comunità, cioè l'idea di case di comunità è una bellissima idea, noi come ANAO abbiamo per esempio sostenuto in modo molto convinto il progetto del Riapriamo il Maria dell'Aide. Il Maria dell'Aide è un ospedale a Torino che era un ospedale ortopedico, è stato chiuso nel 2016 se non erro, comunque da qualche anno che è chiuso e la proposta è quella di riaprirlo riconvertendolo in una casa di comunità, con quindi medici di famiglia che siano presenti dalle otto alle venti e possano collaborare con i medici che io mi augurerei fossero specialisti ospedalieri in modo proprio da portare l'esperienza dell'ospedale sul territorio e viceversa l'esperienza del territorio nell'ospedale in modo un po' da creare quella rete di confronto e di conoscenze che un po' di cui parlava la dottore Sartesi, adesso poi non so se nello specifico è questo, lei è d'accordo con questa proposta, però di fatto l'obiettivo è proprio quello di creare una continuità tra ospedale e territorio. Sempre nel progetto del Maria dell'Aide l'idea che all'interno ci siano infermieri, ci siano quegli assistenti sociali, ci siano i mediatori culturali, il Maria dell'Aide peraltro in un quartiere particolarmente disagiato di Torino, dove effettivamente questo investimento potrebbe avere poi un risvolto anche sui determinanti di salute. Questo progetto non solo né la regione né il comune lo sostengono, ma lo sostenessero anche la domanda successiva è ma i medici che mettiamo dentro poi ci sono e su questo entriamo nel campo delle riforme del territorio che adesso in realtà tengono anche banco, cioè si legge della proposta di far passare i medici di famiglia alla dipendenza o di modificare la convenzione. Io adesso probabilmente per me è anche difficile capire qual è la scelta migliore, certamente una scelta va fatta, nel senso che la medicina del territorio va riformata proprio per consentire la nascita delle case di comunità con all'interno dei professionisti e consentire che questi professionisti lavorino in gruppo e confrontandosi con gli ospedali e soprattutto cercando di ottimizzare al massimo la cura dei cittadini. Quindi questa è un'altra delle riforme di cui in questo momento si discute, ma fondamentalmente c'è stato prima il finanziamento delle case di comunità e l'idea di case di comunità e poi un impunto interrogativo su una riforma che doveva essere il presupposto di questo finanziamento. Per il resto, che le case di comunità servano a decongestionare gli ospedali un po' è vero, dovrebbero servire fondamentalmente anche proprio a fare prevenzione, cioè non è solo un problema di ridurre gli accessi impropri in posto soccorso, ma di prendersi carico con dei percorsi diagnostico-terapeutici delle patologie croniche per evitare che per esempio riacutizzino o banalmente fare prevenzione sociale proprio perché non ci siano o si prevengano in qualche modo le patologie croniche. Su questo siamo indietro, ma dipende un po' dai punti di vista, perché poi sempre a Torino per esempio si è progettato un nuovo e grande ospedale che è il Parco della Salute e che dovrebbe riunire l'ospedale Molinette, prima sì poi no il Regina Margherita che alla fine sta fuori, prima sì poi no il CTO che poi boh forse alla fine sta fuori, comunque di fatto questo quindi diciamo che è un progetto che sta ancora poi cambiando, però la cosa certa è che c'è un drastico taglio dei posti letto per acuti, questo perché si dice beh ma verrà potenziato il territorio, quindi in realtà i pazienti non saranno pazienti che verranno ospedalizzati ma verrà potenziata la gestione domiciliare dei non autosufficienti o comunque la gestione dei pazienti che quindi non dovrebbero più essere ricoverati, sia perché si fa prevenzione sia perché si gestisce sul territorio. Quindi da un lato c'è questo progetto di taglio che prevede un territorio che funziona e dall'altro c'è un territorio che per ora però non funziona e che non supporta i progetti come questo del Riapriamo in Mane dell'Aide che invece punterebbe proprio a potenziarlo. Quindi io su questo insomma mi fermo perché ho fatto poi degli esempi un po' concreti che è la realtà con cui ci confrontiamo quotidianamente, cioè banalmente si parla di aumento di ricorso al privato dopo la pandemia, abbiamo degli esempi molto lampanti di carenza di organi con i pronto soccorsi per cui chirurghi, cardiologi, diabetologi, gastroenterologi stanno facendo i turni dei pronto soccorsi chiudendo gli ambulatori e le persone che hanno già delle liste d'attesa eterne non riescono più andare nel pubblico perché i loro medici stanno coprendo i turni in pronto soccorso e devono inevitabilmente andarsi a far operare, a fare la gastroscopia, la vista cardiologica nel privato accreditato. Questo è quello che purtroppo stiamo vivendo dopo la pandemia che speravamo proprio di non vivere perché oltre ai malati di Covid ci sono tutti gli altri malati che sono stati trascurati che adesso appunto non saranno una parte di loro, non sarà gestita dal pubblico e non è sufficiente né potenziare l'esistente né finanziarlo sono assolutamente d'accordo con la necessità di un'autocritica, di una visione di riforma che adesso manca come probabilmente è mancata in passato. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.